Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, venerdì 27 ottobre e questo video probabilmente si sente un po' diversamente dal solito, si vede un po' diversamente dal solito e non solo perché la mia voce pare venire all'oltretomba e non lo faccio per essere in sintonia con la campagna Halloween di Konami. Io mi sono preso un bel virus parainfluenzale, così ha detto il mio medico, che mi debilita tantissimo, dovrei stare dentro al letto e basta, ma purtroppo il lavoro non me lo consente, non parlo solo del canale YouTube di tante altre cose che seguo e chiaramente i problemi non vengono mai da soli. Quando è che il mio PC decide di passare a miglior vita? Ovviamente, ovviamente, mercoledì scorso sostanzialmente, perché è giusto così. E allora adesso ho un, come dire, un muletto con cui andare avanti questi giorni e il nuovo PC è in fase di preparazione. Cercherò di fare una macchina importante, anche magari per iniziare a fare un po' di video editing, non per tutti i video, magari di tanto in tanto. Ragazzi, vi assicuro che fare un PC importante oggi richiede un esborso economico importante. Se in piccola parte volete contribuire, sapete tutti i metodi con cui potete farlo. Il primo è abbonandovi al canale mensilmente, così è una piccola quota e tutti i mesi si dà. Il secondo sono le donazioni, che potete fare una tantum e via. Il terzo è fare i vostri acquisti su Amazon, passando per il link affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Quello che viene alle affiliazioni va a finire appunto nei pezzi che devo comprare. Per il nuovo PC voglio fare una macchina, come detto, importante. E poi all'interno della descrizione del video ci sono tutte prove gratuite che potete fare. Anche in questo caso ci supportate anche con quelle prove gratuite. Quindi tutto quello che arriva, soprattutto in questi giorni, ci vorranno penso una decina di giorni per avere il PC nuovo, sarebbe davvero importante da parte vostra. Vi ringrazio davvero per quello che potete fare e per quello che avete già fatto con tutto il vostro supporto, con l'iscrizione al canale, anche con il piace ai video, eccetera, eccetera, eccetera. Viniamo però ai football. La prima cosa da dirvi è che domani non mancate l'accesso per prendere l'heimer del Bayern Monaco. Poi avete tempo fino al 9 novembre per riscattarlo, però se lo volete prendere subito il 28. E poi il 31 ottobre ci sarà Delict in regalo. Quindi sono tre giocatori che gratis non sono affatto male. Sono davvero curioso poi di vedere Delict come è fatto. Poi, attenzione, fino alle 10 questa mattina, scusate, fino alle 10 questa mattina non si può giocare con i football. C'è una manutenzione aggiuntiva, ma già ieri, io ho giocato i rigori ieri mattina proprio perché non avevo il PC di riserva, fortunatamente gli hard disk si sono salvati, se no erano davvero cavoli. È partito il processore e la scheda madre, ma dopo dieci anni di onorato servizio è stato davvero clamoroso questo mio PC. Comunque, scusate, questo a voi interessa poco. Vi dicevo, c'è una manutenzione aggiuntiva fino alle 10, salvo che non ci siano problemi ulteriori. Ma anche ieri leggevo nel pomeriggio che tanti di voi hanno avuto problemi per giocare. Speriamo che dopo questa manutenzione aggiuntiva si torni a poter giocare senza problemi. E poi, e poi, ne parlavamo martedì scorso, in Italia Trove Games risponde, di Maradona. Maradona è tornato, purtroppo, nel eFootball sbagliato. Cosa intendo per il football sbagliato? In eFootball Champions Squad. Questa app di carte in cui si simulano le partite contro l'intelligenza artificiale. Anche di questo ne abbiamo parlato. Quindi a questo punto o c'è uno split di diritti tra versione mobile e versione PC console per Maradona oppure è una scelta voluta di Konami per il momento di non proporre Maradona e in particolare la versione Napoli, perché quella argentina l'abbiamo avuto l'anno scorso. Da tempo in memore nel database di football c'è la versione Napoli di Maradona. Ma ricordo che anche per vedere Totti nel gioco abbiamo dovuto aspettare tantissimo, per dirvi. E per dire anche uno come MyCon è tantissimo nel database, ancora non è arrivato. Insomma, ce ne sono tanti i giocatori che devono ancora arrivare. Speriamo che prima o poi arrivino. Infine, ultima cosa di giornata, sono i giocatori che arriveranno lunedì prossimo. Il tema del pool dei giocatori che avranno boost, delle leggende, è quello dei centrocampisti della Liga. Tra i giocatori in evidenza attuali ci saranno Pedri, Dani Parejo, De Paul, Kamawinga, Ojan Sanchez, Jorge De Fruitos, Aizon Perez e Omar Mascarell. Questi due, quattro, sei, otto centrocampisti della Liga. E chi saranno le tre leggende? Stavolta, grazie al buon Fabio, non mi dovrei sbagliare, non c'è bisogno di un video di rettifica. Ah, ringrazio pure Davidinho per la segnalazione della manutenzione. L'avevo già vista, ma ringrazio sempre chi fa parte della community e comunque fa queste segnalazioni importanti. A volte le ho già viste, altre volte no. Voi fatele sempre, che non sbagliate mai. Allora, i tre giocatori dovrebbero essere Xavi, eccolo qui, Deco, altro del Barcellona, quindi due del Barcellona e Guti, invece del Real Madrid. Scusate, sono le tre leggende bustate che dovrebbero arrivare lunedì. Sapete sempre che con i Football Hub non c'è mai la certezza che siano queste, ma stavolta a questo giro, considerando la grafica combiata delle carte con la doppia visuale, tra l'altro con il ritorno della cornice vecchia, cioè vecchia nuova, nel senso che è stata tolta la parte sopra, questa volta dovrebbero essere questi tre. Poi lunedì vedremo, non succede niente se non saranno loro tre, ma mi fido assolutamente del buon Fabio e anch'io a una rapida visione ho pensato che siano questi, perché dovrebbero essere questi, sono quelli che si sono aggiornati nella grafica di Football Hub. Staremo a vedere, staremo a vedere, ragazzi, io non so se stasera riuscirò a giocare, vi dico la verità, sono veramente una mappina, sto proprio a pezzi, e questo virus proprio mi sta distruggendo, spero almeno di fare l'evento giapponese, quello delle 50 monete, però non vi garantisco nulla. Se questa sera non vedete il video, non vi preoccupate, domani mattina tornerò anche per un rapido saluto e poi domenica al solito faremo i giri gratis dei giocatori che abbiamo preso nel corso dei vari eventi. Ragazzi, per il momento è tutto, mi auguro davvero che possa arrivare il vostro supporto per il nuovo PC, che io spero arrivi quanto prima, sono già in contatto con il mio negozio di fiducia che lo assemblerà. Per il momento è tutto, ragazzi, buona giornata e buon inizio di fine settimana. Ciao!